Sì, buonasera, sono il medico del Centro 18. Mi sente? Signora? Signora? Io ho le mani legate nei confronti di 91enne, non posso fare niente. Le ambulanze non ci sono, gli ospedali non hanno più ossigeno, non abbiamo più niente. Là c'erano le animi disperate, chi tossiva che sembrava che non finisse mai. Io non ho mai visto una corruzione. Per uscire da questa cosa è semplicemente mettere in comune e raccontare. Cioè già raccontare secondo me è una terapia. So da dove è chiusata un'infermiera, un po' violando i protocolli. Si è seduta a fianco e mi ha messo la mano sulla spalla. Però davvero sarebbe triste se non lasciassimo un segno o qualcosa di quello che è successo. 15.000 morti in Lombardia! Cari cittadini e cittadini di Bergamo, non dimenticeremo! Bergamo non dimentica! Bergamo oggi rappresenta l'intera Italia che si inchina davanti alle migliaia di donne e di uomini uccisi da una malattia ancora in larga parte sconosciuta. Far memoria significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto, senza la tentazione di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima. Grazie! 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 Grazie!